Salve a tutti ragazzi, ora facciamo video freddo dopo la partita di ieri. Ho letto e ho sentito vari commenti sui social, ho visto i video di altri youtuber, di chi si vanta, chi l'ha detto, chi non l'ha detto, qui è una questione di dire e non dire le cose, qui è una questione di vedere e capire il calcio. Ci sono varie sfaccettature, sento parlare di calo fisico dei ragazzi, però adesso vi voglio dire ragazzi, l'Inter non fa neanche le coppe europee rispetto al Milan, il Milan ha a meno 8 partite di coppe europee nelle gambe, le 6 del girone di Europa League più le 2 che ha fatto di preliminare e le 2 di comitare, quindi ha 8 partite più di noi, noi abbiamo fatto 20-21 di partite, il Milan ha fatto già 28, non possiamo dire che noi siamo sulle gambe delle altre squadre, no, quelle del Milan correvano, ci credevano di più, i nostri ieri non ci credevano, a me sembra che abbiamo un po' la pancia piena già, un film che abbiamo già visto e rivisto tante volte negli anni passati, arriviamo a fare delle cose belle e poi la prima difficoltà, ci sediamo e a dicembre, caso strano, non è la prima volta che ci succede questa cosa, succede già con Mancini, succede sempre, voglio dire calo fisico, ma che calo fisico dobbiamo avere, quello che è mancato ieri, come ha detto pure il mio amico Luigi, abbiamo visto entrare Cutrone che aveva la bava agli occhi, io la voglia di vincere, la voglia di sacrificarsi di tutti, non la vedo più come la vedevo, che ne so, con la Sampdoria o altre partite, che poi diciamoci chiaramente, l'Inter non è che fa un grande calcio, a parte qualche partita che abbiamo fatto, abbiamo giocato anche bene, però abbiamo giocato bene perché la partita si era messa su dei buoni binari, anche quando abbiamo vinto a Verona 3-1, abbiamo fatto un partitone, abbiamo vinto un bel evento, abbiamo fatto un partitone, insomma non è che facciamo dei gran partitone, noi questi siamo, però se adesso devo leggermi che a dicembre siamo in calo fisico, quando tu non fai le coppe, allora se venite così, allora c'è un problema di preparazione fisica, perché si sapeva che il mese di dicembre era il mese più duro che c'era, che quest'anno non c'era la sosta, ci sarà dopo il 6 gennaio, due settimane, e noi arriviamo qui e siamo sulle gambe, tutti volevati i titolari, ieri li ha messi i titolari, e chi sta deludendo le attese dei titolari, non le riserve, ieri hanno giocato i titolari, non hanno giocato le riserve, poi il mister Spalletti, e non è la prima volta che glielo dico, non c'è niente contro lui, anzi non è questa una critica nei suoi confronti, perché sta facendo i miracoli, quindi va benissimo, però se uno sbaglia, meno secondo me, glielo dico, perché è una critica costruttiva che porto, dopo voi ditemi cosa pensate in commento, secondo me certi cambi da lui fatti non sono stati all'altezza, già con i tuoi tre cambi, e mi torno a ripetere, la cosa che mi ha lasciato più basito, che fai il terzo cambio, lo fai al centesimo minuto del tempo supplementare, quindi 5 minuti della fine del primo tempo supplementare, forse forse l'ha fatto un po' prima questo cambio, no mister, con un Milan stanco, perché erano stanchi anche loro, però avevano più, hanno fatto, non è che sei stato un grande Milan, è il solito Milan che gioca, però almeno ci hanno creduto, ci hanno messo quella rabbia che noi non ci abbiamo messo, e hanno vinto, ripeto, meritatamente, meritatamente, cioè, ne abbiamo ogni fuga, leggo, però il gol in fuorigioco, se è fuorigioco non era facile, è difficile da prendere, insomma, la vara può dare, può togliere, questa volta è andata così, se era fuorigioco a me non mi interessa, il Milan sul campo ha meritato di vincere, noi abbiamo meritato di perdere, giustamente, anche perché siamo stati traditi dai nostri cosiddetti supergiocatori, perdisi già 4-5 coperti che fa male, che andreva, anche lui sta tirando la carretta, è un po' sgonfio, e Icardi, e due tre parti a questa parte, che fa meno, aiuta meno la squadra, non si vede meno a pressare, fa meno il lavoro che faceva prima, e quindi se quei tre là, come ho sempre detto, non sono al top, dopo noi si pagano, ma a parte loro, cioè ragazzi dai, adesso sento parlare di Joe Mario, sento parlare di Brozovic, che non possono giocare, e Gagliardini può giocare, secondo voi, può essere titolare nell'Inter, Gagliardini non può essere titolare nell'Inter, ragazzi, Gagliardini non può giocare nell'Inter, può essere un'alternativa, una riserva, se noi giochiamo con Gagliardini, Vecino, andiamo in difficoltà, ieri abbiamo visto, e poi Gio Mario, se tu lo fai giocare, già è in difficoltà sto ragazzo, perché io sui doti ci credo ancora, però secondo me è da vendere, perché comunque adesso lui non c'è, non c'è con la testa, nell'Inter non sta bene, bisogna cambiare area sicuramente, vediamo cosa possiamo ricavarne in cambio, però se tu lo metti a trequartista non va bene, io ritorno a dire, le poche partite fatte nello scorso anno da Gio Mario, quelle che le ha fatte bene, le ne hanno cercate da trequartista, le hanno cercate da vertice basso e mediana, Inter-Juventus ha giocato con Condobiali, ha fatto benissimo con Condobiali, e c'era Banega, trequartista, magari direi che con il segno di poi direi che ha dato via Banega troppo facilmente, forse, magari con Spalletti sarebbe diventato un altro giocatore, ecco, questa era una cosa da pensarci, però, questo è, questo è quanto, quindi sulla parte di ciò poco da dire, io penso che sia arrivato il momento o di cambiare modulo, mister, o comunque attingere anche le riserve, anche se non sono buone, e farle giocare, ieri il cambio che andava fatto, secondo, il mio parere modesto, non a centesimo, certamente, ma prima, verso l'ottantesimo, era di me di inserire Caramot, perché Caramot, tutti mi dite, ma perché Caramot era titolare al Can, e giocava attaccante centrale, punta centrale alla seconda punta, quello è il suo ruolo, non è trequartista, mezz'ala come la messa a Spalletti, metterlo, perché non ha presa una, continuiamo a fare giocare, in più li spremiamo, 120 minuti, con l'alsemo, sono cassi, perché abbiamo presponuto i giocatori, metti Caramot perché ha velocità, è l'unico che ha velocità, è l'unico che è capace di fare in dribbio, poi dopo si segnano, segnano, non so, però, poteva mettere veramente in difficoltà il Milan, perché erano stanchi anche loro, c'avevano i due centrali di centrocampo che erano muniti, con un Milan stanco, sulla parte di Calabria, potevamo metterli in difficoltà seria, o anche sulla parte di Rodriguez, perché con la sua velocità non lo vedevano, quindi bastava solo lanciarlo in profondità, quello era il cambio che andava fatto, io non c'ho niente contro Der, però ripeto, quando abbiamo visto i rinnovi di Eder, Persic, Candreva e compagnia bella, qui la squadra si è afflosciata, sarà un caso, però sembra un film già visto, ripeto, se tutti dicono che la squadra è stanca il 28 di dicembre, vuol dire che c'è un problema, sapevamo che il mese di dicembre andava a cavallo tra campionato e Copitali, si giocavano due partite alla volta, se non sei capace di giocare due partite alla volta, poi, visto che Mister Spalletti fa sempre giocare gli stessi, perché hai fatto il giocato il titolare ieri, che vuole andare in semifinale, ok, e ora c'è l'assi, fatto 120 minuti, e abbiamo visto che adesso, oltre a dire che i problemi sono i panchinari, quelli che stanno giocando, i cosiddetti top, stanno facendo caccare, Persic, perché deve giocare Persic? Fare un po' di panchina, mettermi un po' di panchina, rischierà l'idea, lui e gli altri, è entrato Brozovic, non ha fatto niente, però, però, tra Brozovic e Gagliardini, potete dire il cazzo che volete, se c'è uno che può fare qualcosa di diverso, che può fare il gol, può fare una giocata, con le Brozovic, volenti e non volenti, si fa giocare con il contenitore, vediamo se ci fa qualche cosa, perché Giovanni, tanto è bruciato, ma io, che Giovanni è bruciato, l'ho visto anche contro il Sassuolo, perché se tu hai il vicino che è squalificato, giochi con i tre che avevi, Brozovic, Gagliardini, Borca Valero, nel secondo tempo Levi Brozovic, per mettere Eder, trequartista, e a centro campo, mi giochi con Gagliardini e Gio Mario, non va bene, in cambio è sbagliato, perché al limite Levi Gagliardini, metti Eder, e allora ci metti Brozovic, ma secondo me l'hanno messo Gio Mario in mediana, Gio Mario è l'Inter, può giocare in mediana, guarda caso, quando abbiamo giocato con la mediana, Gio Mario, Brozovic e Borca Valero abbiamo metto 5-0 e mi ha fatto benissimo, contro il Chievo, con tutto quello che volete, però, la partita si era messa bene, però c'è la geometria, lì non abbiamo, Gagliardini non dà geometrie, Gagliardini è troppo lento, l'unico ieri che ha fatto un po' il suo è Vecino, anche Bocca quando è entrato ha cercato di dare ordine, però il problema nostro è che non abbiamo alternative di gioco, non abbiamo sbocchi, non c'è nessuno che va senza palla, siamo feli, andiamo a Candreva, tutti hanno capito come giochiamo, ci raddoppiano lì e ci prendono in velocità, quel è il nostro punto di libro, io dicevo anche in estate, l'Inter se avrà possesso palla e presserà e avrà connessione di fisica, sarà una cosa, se invece poi ci facciamo raddoppiare, ci facciamo prendere noi i contropinti, poi tra l'altro io ieri sono massimo del uso della cosa, io pensavo che contro il Milan, il Milan è comunque una squadra che ti lascia giocare, quindi noi potremmo appoggiarci sul Milan e ripartire, pensavo che facevamo bene, è da lì che si denota anche che i nostri cosiddetti titolari hanno un po' la pancia piena secondo me, non riescono a fare la differenza, non riescono a stare l'asticella, se è arrivato qua, devi continuare nell'onda dell'offerione generale, devi continuare, devi cercare di avere una condizione, invece no, si afflociano e mostrano tutti i nostri limiti che conosciamo, quindi, infine, già visto, rivisto, ieri mi hanno chiesto se io temo un tracollo, ragazzi, prima dicevo che non poteva essere solo culo se facevano quei risultati lì, ed era vero, adesso se tu fai cinque partite e ne pareggi una, stranamente con la Juventus a Torino, anche se lì, insomma, abbiamo solo difeso e non batte il Pordenone, insomma, diciamocelo chiaro, abbiamo fatto un gol nelle ultime cinque partite, mi sembra, no? 0-0 con la Juve, 0-0 col Pordenone, abbiamo perso 3-1 con l'Udinese, abbiamo perso 1-0 col Milan e abbiamo perso 1-0 col Sassuolo, fate voi i vostri bravi calcoli, abbiamo preso cinque gol e ne abbiamo fatti uno in cinque partite, Skriniar non è più quel giocatore che conoscevamo prima, che tutti dicevamo che erano maestri, ho sempre detto attenzione ragazzi, Skriniar è bravo, non esaltiamoli troppo, qualche decisione ce l'ha, ieri il migliore della difesa è stato Ranocchia, io ho anche letto su una pagina che non è assolutamente un attacco di una ragazza che comunque conosciuta su Facebook, scrive, fa pagelle, diceva che la colpa del gol è di Ranocchia che ha assistito impotente al gol, ma Ranocchia era alto, chi non era alto era Skriniar dal limite, se facciamo il fuorigioco, chi non ha fatto il passo davanti era Skriniar, se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo, non diamo sempre la colpa a Ranocchia solo perché è Ranocchia, Ranocchia le due partite che ha fatto con l'Inter fino adesso le ha fatte bene, quindi lasciarlo tranquillo, che ha fatto bene, vediamo cosa resta di fare ancora due o tre partite, lasciarlo tranquillo, io ho ieri le uniche se possiamo dire note positive, Canselo che si deve continuare, adesso si deve continuare con Canselo e si deve avere il coraggio di mettere il ragazzino, metti sto cazzo di ragazzino, metti il ragazzino che avrà tutti i suoi limiti, i suoi difetti, ma può portare gioventù, fallo, euforia, fallo giocare nel suo ruolo, vediamo cosa succede, dovete stare qua a giocare sempre con gli stessi e non ne beccano una, poi sono scoppiati, comunque ripeto, se tutti mi dite che abbiamo una crisi fisica il 28 di dicembre, non facciamo neanche le Coppe Europee e siamo pure fuori dalla Coppa Italia, c'è anche il campionato quest'anno, è una barzelletta, perché si sapeva che dicembre era il mese dove c'erano più partite, e che facciamo noi, arriviamoci e ci affrosciamo? No, ho finito già visto questo, già tante volte l'Inter ha fatto queste cose, quindi bisogna porre rimedio, speriamo che Spalletti riesca a trovare alternative, come lo stesso dice che le alternative devono trovarne panchina, allora metti dentro sto ragazzino che è l'unico, è l'unico giocatore che hai al momento, ti dico, teoricamente al momento è l'unico che è capace di saltare l'uomo, di creare solita numerica, perché è veloce, è veloce, va, poi può sbagliare il gol, può sbagliare il gol, lo scorso anno il titolare al camp ha fatto 6 gol, ha fatto 7-8 assist, il nazionale under 21, insomma non è indeficiente, non è immatturo, bisogna avere le palle di farlo giocare e basta, punto, lo si mette e lo si fa giocare 3-4 partite, non va bene e si toglie, ma devi dare una concorrenza, devi dare un po' di peperoncino nel culo a quelli che si credono titolari inamovibili, perché pure questo è quanto, perché te Spalletti hai detto che hai investito con questi giocatori per dare loro convinzioni, tu hai trovato convinzione a questi, sì che sono convinti di aver imposto la titolare adesso, e gli altri non si è riuscito forse a ottenere quello che volevi, poiché Dalbert non è più quello che ho visto a Rinsa, e ne sono tantamente dispiaciuto, perché l'ho visto giocare, ma l'ho visto anche giocare dal vivo, ed è una bestia, tutti lo volevano, il City ha cercato l'Arsenal, il Paris Saint-Germain, e ha scelto l'Inter perché è arrivata prima, e poi arriva da noi e purtroppo non funziona, Gabigol abbiamo visto che se ne torna in Basile con la cosa tra le gambe, bocciato anche dal Benfica, Gio Mario penso che andrà via, Brozovic, però in questo momento, in questo momento io se devo scegliere il centro capo dell'Inter per quello che c'è in casa, io farei Vecino, Boca Valero e Brozovic, perché non ho altre alternative, l'unico che può fare qualche gol all'Inter è Brozovic, infatti ha fatto tre gol, quindi o lui o niente, poi adesso si parla di Zellofleu, che sembrerebbe che Barcellona ci venga incontro, abbia dato ampia disponibilità a darci il giocatore con un prestito biennale, tarroccato, stile Paris Saint-Germain, che poi diventa obbligo, quindi c'è da prendere, dalle notizie che ho io, dai miei contatti che ho in Francia, si dice che potrebbe arrivare anche prima del 6 gennaio, vediamo se corrisponde al vero, io non posso metterci la mano sul fuoco, non vi dico niente, però così mi è stato detto, in genere il mio contatto ci becca quasi sempre, vediamo, speriamo che ci becchi anche stavolta, poi chi che serva o non serva, non lo so, però è un giocatore rapido, che salta l'uomo e che è capace di creare simbolità numerica. Adesso, senza, senza, con i giocatori che abbiamo in casa, io sicuramente farei giocare il ragazzino e magari cambio pure il ruolo, cambio pure il modo tattico, metto il centrocampo a tre, Borcavalero, Vessino, Brozovic, metto un centrocampo a tre, metto il candele a destra e metto il caramolo a sinistra o come volete voi l'inversate e i car di davanti, 4-3-3, io farei questo, poi non lo so, ditemi voi cosa pensate, quindi niente ragazzi, c'è poco da dire, noi non abbiamo alternative di gioco, andiamo sempre sulle fasce, c'è, cross e basta, tutti l'han capito, ci raddoppiano, ci pressano alti e ripartono, perché? E perché non soffriamo tanto? Perché abbiamo un passo troppo lento, stanno troppo lenti in mezzo al campo e quindi facciamo fatica, facciamo fatica, facciamo fatica a contrastare, facciamo fatica a far tutto, o tutti sono al top e tutti corrono e tutti si sbattono come ho fatto all'inizio, o questi se hanno risultati, cioè possiamo essere una buonissima squadra come possiamo essere una squadra facile da battere, tutto nella testa, adesso sta il mister, però il mister, sicuramente il mister la smetta con questi cambi troppo tardivi, i cambi vanno fatti prima e non è la prima volta che sbaglia con i cambi. Tutto qua ragazzi, ciao e alla prossima, forse in te a sempre. Grazie.